Ciao a tutti ragazzi sono Magicolo. Finalmente anche io ho la voce di Locuendo, però state tranquilli che non vi monto la testa ora. È divertente sentire quello che hai da dire, attraverso la voce di un altro. Dovete anche capire, che il nostro team è composto da molte persone, e quindi non è giusto che io usassi sempre una sola voce. Ho sempre pensato che la voce meccanizzata e robotica fosse triste, ma mi sono accorto che quello che dovrebbe contare veramente, non è la forma ma il contenuto. Per questo credo che userò spesso questa voce, soprattutto quando dovrò parlare per conto di tutto il gruppo Magicolo. Con questo, vi saluto. Vi auguro una buona giornata, e un buon divertimento sui canali Magicolo, a presto.